Buongiorno a tutti, sono Marianna Petronzi, un'attrice regista pugliese e ho scritto un pezzo legato alla nutrizione e al cibo perché ovviamente riguarda un po' tutti questo problema, però ho voluto fare un po' la parte contraria, nel senso che la gente che ci è riuscita a superare questo problema perché fondamentalmente da una parte è anche un po' un problema per alcuni, quindi portare la testimonianza di una persona che ce l'ha fatta finalmente, cioè non sempre i soliti problemi, io mangiavo, non mangiavo eccetera, ma una persona che ce l'ha fatta e ce l'ha fatta aiutando anche gli altri. Tutto qui, grazie. Grazie a tutti.